Ciao a tutti! Si dice either o either? Privacy o privacy? Well, both! La differenza qui è tra l'inglese britannico e l'inglese americano. Adesso vi farò ascoltare 23 parole con l'accento British e con l'accento American e per l'accento americano vi farò sentire delle persone normali con il loro accento naturale. Iniziamo con la parola stupid. Io dico stupid con il suono U per la lettera U. Stupid. American accent. Stupid. Come se fosse un double O, ok? Stupid. 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 Ok. Student. 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 Duty. 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 Produce 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 Tube 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 Quindi anche YouTube 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 Tuesday 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 Ma anche la parola new, che ovviamente non si scrive con la lettera you, ma ha questo suono, you, new, io dico new. Ok, let's look at some other words. Either Either Neither 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 Advertisement 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 Privacy 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 Missile 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 Mobile 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 Aluminium 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 Leisure Leisure Vance Vase Niche Niche Vitamin Vitamin Semi Semi Wrath Scone 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 E chiudo con la mia parola preferita. Oregano. 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 O 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